Se Juventus-Milan fosse un'equazione algebrica io credo che finirebbe comunque 1-1, signori miei, sì, perché sostanzialmente un tempo per parte, un gol ciascuno e le due squadre questa sera si dividono la posta. Credo che sia tutto giusto per quello che abbiamo visto, per i valori che sono emersi nei 90 minuti perché il primo tempo della Juventus è stato maiuscolo ma non la gara completa, non nei 90 minuti nel secondo tempo, poi forse anche la stanchezza ed è emerso un Milan che risulta inossidabile. Un aggettivo per descrivere la squadra rossonera, inossidabile, il Milan è inossidabile, una squadra che comunque in qualche modo resiste anche alle intemperie e poi perché no, alla fine emerge e poteva addirittura portare a casa il bottino pieno, poteva portare a casa addirittura il bottino pieno. Ma noi riavvolgiamo il nastro e vediamo un pochettino come è andata, signori miei, vi invito a lasciare un like se volete, iscrivetevi al canale così mi ritrovate anche nei prossimi video, nella reaction di domani sera perché c'è il Napoli che potrebbe addirittura passare in testa alla classifica, al momento sono appaiate Inter e Milan, seppur parliamo di una classifica veramente corta, cortissima. Allora, la gara si era messa come la voleva la Juve, passi subito in vantaggio e poi puoi gestire, puoi imbastire la solita partita dove in qualche modo ti abbassi e perché no colpisci e cerchi di imporre la tua velocità in contropiede. Si era messa bene, si era messa bene perché poi aveva sfruttato una disattenzione clamorosa del Milan che su questo deve ancora maturare un pochettino perché non puoi prendere un gol del genere, non lo puoi prendere ad inizio gara contro la Juventus da calcio d'angolo, sono quei gol che non sono accettabili, sono quei gol che non ci stanno, sono quei gol che poi possono costare caro, possono costare caro e comunque sicuramente la gara si era messa come la Juventus l'aveva anche un po' studiata, no? Però è stato molto molto attento, ripeto, finché sono stati concentrati, lucidi e credo che sia una questione sia fisica che mentale della Juventus, perché sono calati sia fisicamente che mentalmente. Nel primo tempo invece sono stati sempre, dico sempre sul pezzo, non hanno concesso praticamente nulla al Milan. È vero che anche la Juventus non è che sia stata una partita dove da una parte o dall'altra ci sono state tantissime occasioni clamorose, tantissime possibilità, no? È stata molto combattuta, molto tattica diciamo, è stata molto tattica la partita dove veramente poteva essere indirizzata da un episodio o da un altro. E visto che la Juventus ha avuto sia la bravura di sfruttare l'errore iniziale del Milan, la Juventus nei primi 45 ma anche nei 60 e nei 70 minuti, la Juventus doveva fare il secondo gol. Ha avuto anche l'occasione e comunque ha avuto anche le ripartenze per fare il secondo gol. Infatti fino al sessantesimo, al settantesimo, io questo video, fino al settantesimo minuto, io questo video l'avrei intitolato la Juventus di Allegri è tornata. L'avrei intitolato così, ve lo dico, nonostante poi sia finita 1-1. Ve lo dico perché la Juventus era attenta, era concentrata, era lucida, non aveva concesso quasi nulla. Nel secondo tempo praticamente una triangolazione tra Diaz e Leao o Diaz e Rebici, non mi ricordo. Comunque Diaz che stava andando al tiro, però comunque ancora una volta rimontato nel finale da Terchiellini, da Alexandro, la Juventus c'era, era concentrata, era concentrata, quindi sarebbe stata la classica Juventus di Allegri che fa il gol, si rintana, è equilibrata, è attenta, ma alla fine non va oltre l'1-0 magari. No, la classica Juventus, io l'avrei intitolato così. Invece no, invece no. Poi la Juventus, specialmente dopo il gol, un gol che arriva da calcio d'angolo, dove Locatelli si perde Rebici, lì la Juventus poi è nettamente scoppiata. Credo che già ci sia stato il calo fisico nel secondo tempo, poi dopo il gol è arrivato anche quello mentale. Cioè la Juventus dopo non è riuscita più a ripartire. Ripeto, la Juventus una volta si rialzava dopo queste botte, adesso è come invece se un gol invece la stendesse, se stendesse da un punto, parliamo di gergo di pugilato, come se andasse al tappeto. Ed è qui che secondo me c'è da fare uno switch, c'è da fare un passo avanti. Oggi, attenzione, se giocava contro il Milan, il Milan non è che non è squadretta da nulla. Il Milan si sta dimostrando ancora una volta una squadra capace, una squadra che rimane in partita, che comunque per quanto abbia subito, ripeto, un gol molto ingenuo, non è una squadra che sbanda facilmente. Perché oggi all'Allianz contro una Juve che è bisognosa di punti, che comunque fa una partita fatta bene, almeno per i primi 45 minuti proprio fatta bene della Juve, ti puoi andare, puoi sbandare. Milan poteva sbandare, invece no. Invece comunque vuoi o non vuoi, il Milan è rimasto là e ha atteso il momento giusto. E quando il momento giusto è arrivato, ha fatto gol e poteva addirittura vincerla. Non la vince per uno Scesni che stavolta salva la faccia alla Juventus. C'è da dire, Scesni ha raccolto tante critiche giuste, tutte giuste e doverose. Stasera Scesni salva la faccia alla Juventus. Salva la faccia alla Juventus. E cosa ne schio no? Stavo dicendo che anche nelle soluzioni della panchina la Juve ancora deve ritrovare qualcosa, perché tempo fa, quando pescava Allegri, c'era sempre qualcuno che la risolveva. Oggi, una volta usciti Dybala, Morata, Quadrado, gente di livello che non è semplice, non è facile sostituire, e la Juve è proprio, ripeto, disinnescata da sola, non è riuscita a trovare delle soluzioni. Ken Kulusevski non li ho proprio visti. Francamente non sono mai entrati in partita. Lo stesso Chiesa non si è mai visto con un Allegri della panchina che ci ha messo 5-10 minuti, solo a dire cambiatevi di posizione. Gente che ancora non lo segue, non lo segue, non lo segue a pieno. Ecco perché forse si affida anche a gente che prevalentemente già conosce, tipo la Bonucci Chiellini dietro, Dybala, Morata, Morata che secondo me ha fatto un'ottima gara, è stato bello anche il gol, c'è da dire, scendendo nel dettaglio, ha tenuto botta con uno come Teo, in conduzione, con la palla tra i piedi, non era facile a quella velocità, e ha fatto un bel gol, c'è da dire anche questo. Ripeto, però dalla panchina non è riuscita, non è riuscita in qualche modo ad aggiungere qualità. Tempo fa riusciva, questa volta no. Il Milan c'è da dire invece, d'altro canto, che era quasi conteggiata nelle disposizioni del mister, perché ha perso Calabria, questa partita ha perso anche Kier, e poi gente come Chessy che l'anno scorso è stato il giocatore che ti ha dato una scossa incredibile, si era preso in mano il centro capo, quest'anno praticamente stai giocando senza di lui, perché Chessy è inguardabile al momento. E quindi è un Milan che si affida invece, che trova comunque altre soluzioni e non sbanda. Ripeto, anche Caloulo stesso, magari tecnicamente non mi è piaciuto tantissimo, però è sempre deciso, sempre puntuale, con personalità, sempre attivo, spigliato il ragazzo, spigliatissimo. Tomori che ha fatto una partita maiuscola, Tonali che, ragazzi, è cambiato da così a così, io ve lo dico chiaramente, a me Tonali non piaceva proprio l'anno scorso. Tutti a dire, no no, questo ragazzo così colà, non mi piaceva, non mi piaceva. Quest'anno lo trovo veramente diverso, un giocatore più maturo, un giocatore più attivo e mi è piaciuto tanto. Poi c'è Rebici che comunque quando si attiva lì davanti qualcosa di concreto lo trova sempre, nel secondo tempo è salito in cattedra anche Teo che si era visto poco. Mi piace Diaz, Diaz comunque è a brio, è spigliato sto ragazzo quando vedo giocatori con questa tecnica, io mi innamoro, molto molto bravo, molto 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 bravo. Ripeto, per me è stata una partita di risultato finale giusto. Ripeto, un tempo per parte, ovvio che la Juventus all'Allianz con un punto doveva forse fare qualcosa in più e poteva fare qualcosa in più per come si era messa la partita. Solo l'1-0, sei attiva, sei concentrata, devi fare il 2-0. E' mancato quello, è mancato anche quello perché il Milan comunque te lo devi andare a meritare, se no non è che te lo regala, attenzione, c'è da dire questo. Va bene, mi è piaciuto Locatelli, Locatelli viene macchiato solo dal, e poi fa la differenza dal gol che subisce con Rebici che se lo perde, ma in cabina di regia per come comunque distribuisce il pallone è un valore aggiunto per questa Juventus. Comunque, è andato così, questa è la mia disamina, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le cani se volete, perché no? Iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, te ne esco.